Star Wars, episodio da 2 a 50 attacco dei cloni, diretto dal maestro George Lucas, è una pietra miliare nella cinematografia di fantascienza e un capitolo essenziale nell'epica saga di Star Wars. Il film ci riporta in un periodo di grande agitazione galattica, 10 anni dopo gli eventi della minaccia fantasma, e segue le vicende di Anakin Skywalker, un giovane Jedi con un futuro incerto. Episodio 2 ci immerge in un momento cruciale della storia galattica. Anakin Skywalker, ormai un giovane cavaliere Jedi, e la sua mente e il suo cuore sono catturati da Padmeo Midola, ex regina di Naboo, con cui intreccia una relazione segreta. Nel frattempo, la Repubblica Galattica è sull'orlo di una devastante guerra con la Confederazione dei Comercianti, e Anakin è chiamato a combattere per preservare la pace. Star Wars, episodio da 2 a 50 attacco dei cloni, è un'opera audace e visivamente svalorditiva che dimostra il potere e l'influenza duratura di questa epica saga cinematografica. Punti di forza, 1. Effetti speciali rivoluzionari, il film è un premier nell'uso massiccio della computer grafica, CGI, un'innovazione che ha continuato a influenzare il cinema moderno. La battaglia di Geonosis, in particolare, si distingue come un esempio straordinario di come la CGI possa trasformare una scena in uno spettacolo visivo epico, 2. Scene d'azione straordinarie, episodio 2 è una celebrazione dell'azione cinematografica. La battaglia di Geonosis, la battaglia di Miunilinst e il duello tra Anakin e Dupu sono momenti indimenticabili che hanno segnato la storia del cinema. Queste sequenze sono cariche di tensione e adrenalina, mettendo in evidenza le abilità dei personaggi e la maestria di George Lucas nella regia delle scene d'azione. 3. Caratterizzazione dei personaggi. La trama offre una caratterizzazione complessa e avvincente dei protagonisti. Anakin Skywalker emerge come un personaggio affascinante, con una personalità impetuosa e un talento eccezionale. Palmeo Midola è una figura forte e determinata, pronta a lottare per ciò in cui crede. Obi-Wan Kenobi rappresenta la saggezza e la compassione che definiscono l'ordine dei geni. 4. Narrazione coinvolgente. La trama del film offre uno sguardo approfondito sulla guerra dei Geoni e sui personaggi coinvolti. Ricca di colpi di scena e momenti di suspense, la storia tiene gli spettatori incollati ad epitrone dall'inizio alla fine. Star Wars, episodio da 2 a 50 attacco dei cloni, è un capitolo visionario dell'universo di Star Wars che continua a incantare i fan e gli amanti del cinema. Gli effetti speciali rivoluzionari, le scene d'azione spettacolari e la caratterizzazione dei personaggi lo rendono un'opera imperdibile per chiunque ami il genere fantascientifico. Nonostante alcune sfide narrative, il film rappresenta un capitolo essenziale nella narrazione di Star Wars.